Perché questa, la scoperta di una certa rilevanza? Perché dopo la scoperta dell'abisso Buenofonteno, che è già di 22 km, la scoperta di Nuova Vida, che gli potrebbe andare addosso, renderebbe questo complesso carsico ancora più vasto e quindi con orizzonti sempre più lontani da quelle che sono le nostre ipotesi. Quali caratteristiche ha questo abisso? Ma Nuova Vida si sviluppa parecchio perché è già 4 km di sviluppo ma si inabissa velocemente nelle profondità della zona. Ha già raggiunto i 500 metri di profondità, risultato che con Buenofonteno avevamo raggiunto in più tempo. Questo ci permette di essere già molto all'interno della montagna e di continuare a proseguire un po' in tutte le direzioni. E in che direzione vi state muovendo? Ma l'idea è non soltanto di rivolgerci al versante del Lago di Seo, quindi le sorgenti che sono su quella sponda lì, ma anche di trovare un passaggio che ci porti verso la Valcavallina, perché anche qua ci sono delle sorgenti importanti e secondo noi sono sicuramente coinvolte. Nelle sottosuolo effettuate diverse indagini? Sì, dunque il progetto Sebino oltre a condurre l'attività esplorativa vera e propria delle nuove gallerie si è prefissata a diversi obiettivi. L'obiettivo innanzitutto è di definire meglio i confini di tutto l'acquifero, quindi di andare a capire al di là delle due grotte più grandi scoperte, perché poi ce ne sono diverse altre decine, e di capire esattamente i collegamenti di tutto l'acquifero e quindi capire le interconnessioni tra gallerie nel sottosuolo e risorgenze carsiche. Per noi fondamentale importanza riveste proprio la conoscenza dei percorsi delle acque sotterranee, soprattutto in chiave anche un po' sociale, a livello di tutela delle acque, perché con i tempi che corrono e con quello che si sente sempre più in giro, la tutela dell'acqua per noi riveste un ruolo fondamentale, sapendo tra l'altro che le acque del complesso sono pulite, nel senso che sono acque proprio da salvaguardare, perché essendo potabili sostanzialmente sono rare, se ne sono sempre meno di acque con determinate caratteristiche. Quindi oltre a questo preciso obiettivo del progetto Sebino, si è sviluppato negli anni anche lo studio delle conoscenze della fauna sotterranea, quindi alcuni nostri specialisti hanno classificato, e stanno tuttora facendo questo lavoro di classificazione, studiato queste forme di vita presenti all'interno del complesso carsico, che sostanzialmente sono alcuni insetti, quindi parliamo di forme di vita di pochi centimetri, che però nella maggior parte dei casi presentano i connotati tipici di questi animaletti, che hanno sviluppato delle forme di adattamento alla vita nel sottosuolo. In alcuni casi stiamo trovando alcune peculiarità in fase di studio, per capire se stiamo di fronte, non dico a specie nuove, ma a situazioni comunque nuove. Poi il progetto Sebino vuole anche andare un po' nella direzione dello studio geologico proprio della zona, dell'approfondimento dello studio geologico dell'area, che per forza di cose, per banalizzare, finché viene fatto dall'esterno presenta delle lacune intrinseche. Noi abbiamo visto che la stratificazione, la litografia delle zone, in realtà all'interno del sottosuolo presenta delle anomalie, delle cose impreviste, che cambiano le carte in tavola. Quindi il progetto Sebino ha già sviluppato dei lavori di campionamento geologico dei vari rami della grotta con l'adattazione delle stesse, allo scopo di fare anche questo tipo di analisi in più approfondita possibile.